Questa cosa? Secondo voi cos'è? Spacare il caio Spacare il caio La cagliata Questa di qui cosa è sempre? Ricottina Gorgonzola Gorgonzola Stracciatella Primo sale Questa è una scamorza Scamorza affimicata Questo è un semistagionato Pecola perché l'ha sbagliato Sì Questo invece è un caprino Di brutto Tipo taleggio Questo è un sacco affumicato Camembert Camembert Capra Capra Questa è un maiale E io sono sicuro Questo è il pieno Grazie 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 a tutti.